Nel Sannio si continuano a registrare decessi nei reparti Covid del Sampio di Benevento, tre le persone che hanno perso la vita nelle ultime ore. Si tratta di una 84enne di Reino e due persone di Castelfranco in Miscano, una 59enne e un 86enne. Tutti erano ricoverati nei reparti di terapia intensiva e subintensiva del Rummo. I pazienti positivi al Covid-19 deceduti ad oggi sono 300. Su complessivi 1.180 pazienti trattati presso il padiglione Santa Teresa. Intanto nel primo pomeriggio di oggi nel Sannio sono arrivate altre forniture di vaccini Pfizer e AstraZeneca, che serviranno a proseguire la campagna vaccinale per gli over 60 e per i richiami degli over 80 e dei disabili. Prosegue anche la campagna vaccinale per i pazienti a domicilio da parte dei medici di famiglia, che in pochi giorni dovrebbero terminare le somministrazioni. Ed è proprio dagli specialisti di medicina generale che però arriva un monito. Vaccinarsi non significa liberarsi del problema, perché anche chi è vaccinato purtroppo può essere colpito dal virus e può trasmettere il virus. Il vaccino ci protegge dalla malattia, cioè chi è vaccinato e prende il virus non si espone a problemi di salute importanti se non ad una infezione, diciamo così, leggera, diciamo asintomatica. Però è portatore di virus, quindi può trasmettere il virus.